Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi sono su CapCut perché vi voglio far vedere come si trasformano le persone in anime Quindi voi dovete cliccare sulla foto e poi dovete cliccare stile Potete mettere Anime GP Oppure potete mettere Anime da sogno Oppure potete mettere Gatto Che secondo me è molto carina così Comunque questo è come si trasformano le persone in anime su CapCut E voi potete trasformare anche i loghi Ecco, per esempio io qua ragazzi ho trasformato il logo di Roblox Ma è venuto carino, ce li ha messo tipo delle piume E poi ha fatto tipo i ritocchi Quindi funziona anche sui loghi ragazzi Comunque è un'app molto carina CapCut Sia per editare sia per magari mettergli effetti Si può anche trasformare in anime Però io intanto posso mettere degli effetti Voglio provare No, sad no, sad no, è carina Ok Oh, foto mossa Cute, agita Oddio, non credo Che cos'è questo? Punti interrogativi Confusa La sfocatura Sfocatura D Ah, divombimento Esposizione Lente di ingrandimento Messa a fuoco Vabbè Così sono tutti gli effetti E comunque Che figa Io nel video ho nascosto tre parole Che voi dovete cercare E ma chi le riesce a indovinare Potrei anche fissarlo Cioè fissarlo Cioè fissarlo in senso Non è Ti fisso Ti guardo In senso nei commenti Chi magari scrive io L'impostazione fissa Come primo E lo metto Come primo commento In alto Dove tutti lo vedono Vabbè Vabbè Io esporto Anche se Sono solo delle foto Comunque noi ci vediamo Ad un prossimo video Spero che questo tutorial Vi sia stato utile E ciao